Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, ci sono 4 km di coda per lavori tra Valdarne e Arezzo verso Roma. Si tratta di interventi urgenti di ripristino della pavimentazione. Per incidente inoltre restano rallentamenti più a nord tra Aglio e BV1 Variante in direzione di Firenze. Segnaliamo inoltre che è prevista neve tra Sassomarconi e Aglio e tra BV1 Variante e Firenzuola. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario. Ricordiamo che anche quest'oggi il servizio ha interrotto sulle linee Pistoia, Porretta e Siena chiusi. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Per il traffico aereo il volo Firenze-Parigi delle 15.15 al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 16.50. In ritardo anche il volo Firenze-Düsseldorf delle 19.40 al momento segnalato in partenza alle 20.20. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!